Vincere fa sempre piacere, è normale che era la nostra prima uscita quindi sicuramente abbiamo tanto da dimostrare ancora e da migliorare però come dicevi anche tu fa morale ed aiuta ad affrontare le fatiche della preparazione sicuramente in un modo migliore. Noi seguiamo le indicazioni che ci vengono date dallo staff e stiamo lavorando tutti e bene, è normale siamo all'inizio e deve essere per forza così perché per conquistare poi qualsiasi punto in campionato si parte sempre dall'inizio e quindi farlo col piede giusto è la cosa migliore. È la prima uscita stagionale quindi è normale che bisogna trovare ancora le giuste distanze, i giusti movimenti però devo dire che sì effettivamente abbiamo preso un gol dai 25 metri circa, più o meno da fuori area, con un tiro fuori area direi che è stato un primo tempo all'insegna del possesso palla avversario dove noi abbiamo ottenuto penso comunque discretamente il campo, non abbiamo patito grosse incursioni avversarie o sono occasioni particolari quindi devo dire che abbiamo fatto discretamente sono sicuramente cose positive da cui partire e migliorare. Sì sono abbastanza contento, è normale come tutti che sono all'inizio e poi faceva anche abbastanza caldo quindi diciamo che c'è stata anche una gestione dei ritmi però vabbè sono abbastanza soddisfatto sicuramente si può fare sempre meglio.